Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, Il mistero del salto della lepre, dell'episodio numero 11. Un insolito atterraggio. Buon ascolto. Jack, la lepre, dormendo, gli apparve in sogno un pesce che lo avvertì di fuggire. Giovane lepre, devi lasciare questa navicella aliena. Le persone non devono credere all'esistenza degli alieni. Tutto questo deve rimanere nascosto. Perciò, prendi un paracadute e vola via, prima che sia troppo tardi. La lepre, una volta sveglia, si liberò dalla capsula e, prendendo il paracadute, si lanciò nel vuoto, atterrando in un luogo turistico, l'acquario di Genova. Atterrato, Jack, si rese conto di essere abbastanza distante dal bosco, ma invece di disperarsi, la lepre tentò di entrare nell'edificio per ricevere informazioni dove si trovasse. Quando Jack entrò, si rivolse a una tartaruga marina, domandandogli, salve, io sono Jack. Per favore, vorrei sapere dove mi trovo. E quanto è lontano il bosco di Bonassola, il luogo da cui provengo. «Purtroppo mi sono perso. Mi potresti aiutare?» La tartaruga rispose. «Giovane lepre, ti trovi in un grande e famosissimo edificio, l'acquario di Genova, il bosco di Bonassola, bensì il salto della lepre. Chiamato così per ricordare la coraggiosa lepre, che pur di non essere catturata da un cacciatore, si lanciò nel dirupo. Per raggiungere questo luogo dovrei prendere il pullman di domani pomeriggio. Infatti, una scuola domani mattina passerà qui per godere le meraviglie di questo grande acquario e farà ritorno a Bonassola per le ore 16 e 30. Al momento devi avere pazienza, Jack. Devi credere in te stesso. Sono sicuro che tornerai a casa.» Jack, ascoltando la saggia tartaruga, decise di attendere il giorno dopo, dove sarebbe ritornato a casa. «Questo è Jack e la tartaruga Marina.» Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!